Musica Buonasera, siamo al Teatro Cortese, ai Colli Aminei, in Napoli ovviamente, e questa sera si esibirà Arsène Duevisu, proprio su questo palco, etnomusicologo del Togo, e con questa esibizione darà inizio alla rassegna intitolata Teatro Felice, rappresentata dall'agenzia Nutrax, diretta da Stefano Scopino e Anna Evangelista. Arsène, attraverso la tua musica ci racconti dell'Africa, e stasera cosa ci racconterai? Beh, dell'Africa nera, dell'Africa in quanto la cula dell'umanità, c'è questa madre terra che ci ha generati, che ci richiama, e io ho visto nei miei incontri in questi anni, tutte le persone che in qualche modo si riavvicinano a questa madre terra, stanno bene, si rigenerano spiritualmente, quindi stasera sarà un incontro, un viaggio, nella quale andremo tutti quanti ad entrare nelle viscere dell'Africa nera, per salutare questa madre, accarezzarla un po', sentire i suoi suoni, prendere il suo abbraccio, e farla entrare dentro per stare bene. Vi invito a partecipare ai numerosi, non solo al mio concerto, ma a tutti gli eventi che ci saranno, del teatro cortese, del teatro felice, anche si chiamano. Ah, anche del teatro, assolutamente, tutte le rappresentazioni del Nutrax, insomma. Del Nutrax anche, mi raccomando, sostenete chi ci ha coraggio, ci ha coraggio veramente di lavorare per la cultura, perché senza cultura non esiste un popolo, è l'anima di... Assolutamente, sono pienamente d'accordo. e quando si parla dell'Italia, oggi come oggi sono togolese e anche italiano, cioè, Napoli rappresenta una parte importante della cultura italiana. Mi raccomando, sostenete chi lavora in questo campo, chi organizza eventi, chi date tutto quello che potete. C'è un detto che dice Tradotto in italiano è un po' difficile, ma l'idea è ciò che tu hai, devi dargli il tuo valore. Assolutamente sì. Sarà una piccola cosa, sarà un teatro piccolo, sarà... Ma se tu li dai valore, lo sostieni, ne parli, come dire, lo condividi... Certo. La gente verrà. Noi ti ringraziamo e non solo io, ma tutti quanti vediamo l'ora di vederti e di vedere la tua esibizione stasera. Il concerto, posso vedere anch'io. Sì, vieni dai, ti accompagno io, vieni dai. Ciao. 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 Io sono Arsene Duevi, etnomusicologo e musicista togolese e italiano. Potete trovarmi su www.arsene2vi.it o musicamorfosi.it, anche su Facebook, Arsene Duevi, ci vediamo, ci sentiamo, ci parliamo e ci divertiamo. Grazie. 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 Grazie.